Musica 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 E allora ragazzi qui di fronte a voi avete con lui che stiamociando il canale Adesco di the one and the least E oggi siamo insieme a... Poi... E infine... Con la vocella con la vocella depresa solita E allora ragazzi oggi siamo nello speciale di Pasquetta Perché mi ha dove di farlo Inutile del mondo Si tipo Per cosa facciamo per questa aspetta? Giochiamo a scribble.io con i nostri amici Yeee Il video super viralizzato che va in tendenza Magari va in tendenza questo video raga Immaginate Perfetto ragazzi siamo tutti entrati nella stanza quindi che dire Prima che si tolga l'invito iniziamo Yeee Ora per indovinare cosa dobbiamo fare Dobbiamo scrivere Ah type your guess here Cos'è questa roba? No Cos'è? No non è H9 Ah ci ho sopra descito quante lettere marco Eh lo so 4, 5, 6, 7, 8 Che cos'è? H H H O 9 Mi sa che è una cosa... È una cosa della tabella Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Potta... Eh no no eh... Eh minchissà chi lo sapo eh non me la ricordo No Però la ho certo H9 Ho capito È facilissimo credo No non è questo Cazzo anch'io Cazzo anch'io Chimica Che cos'è? No che cosa ho scritto Vi posso dare un vaghissimo indizio Si È un elemento chimico Un elemento chimico Però non è l'idrogeno L'H9 H No 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 è un 9 È una G Amir Hg Oddio cos'è? Oh Innovinato! Ma porco No non è l'argento Hg che cazzo dico? Ah no no eh Che cazzo... Ah vabbè Dobbiamo indovinare noi Che cos'è? Che l'imento è? Perché effettivamente... Mi aspetta provo a disegnarlo Ma... Mercurio Il mercurio Il mercurio Ma che merda Allora io sapevo cosa è Avrei saputo cosa Tocca a Samy Però è un po' particolare Eh... Te ne so... Ecco Vediamo un po' Che cos'è sta roba Ma... Ma non saprei che cazzo dire raga Non può essere telefono Ma... È la cosa... Quella che usano a scuola Come si chiama? La lavagna quella... Non credo Se... Guardate le parole Costino Ma cos'è? No lo so Ma che è? Ma... Ma come si chiama sta roba? Ma veramente Savi dacci un indizio Savi d... Ah ho capito Savi... Savi dacci un indizio Ok Sì? È il distributore Sì ma c'è un'altra parola Madonna No minchia Che cazzo è? Eh... Savi dacci un indizio Eh... Sapevi ora Auto Automatico Ma che cazzo Ma che cristo è? Vediamo un po' Facile Vabbè ma la capite subito No Non vuoi essere in alto la parola Guardate quel cos'è Ah... Eh infatti guarda cosa è in alto Vai 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 benissimo Eh dai è facile Aspetta che Se no magari non si capisce con il naso Come si scrive? Fear Stomax Stinks Ma come si scrive Savi c'è? Cioè che cazzo è il problema Che cazzo è il problema Ahahahah Ahahahah Come si scrive? Ahahahah Che cazzo Che cazzo Ma perché che Sembra una persona che sono messo però Non posso dire Sì Piercing E' che cosa sta? Piercing Ok ci so Allora raga Questo elemento è molto facile Ce l'hanno in molti personaggi di anime E in pratica è così E non è il proprio cazzo Stomax Perfetto Perfetto Ma che cazzo Ma è una scimitarra palesimente Cioè Guarda le parole Eh ma Quello che la tiene ha la K Vuol dire che è giapponese Mettiamolo così Ah Perfetto Ah Qua ci si diverte Qua ci si diverte Mmmh Ho già paura Ed è anche abbastanza facile Ah qui Cambiare i colori Eh pacman Ah Beh non ho capito Tu hai? Beh poi Bob Bob è molto Oh Dio Oh Dio che cos'è? Fatto da Bob C'è per te non ho appena visto verde Iiii Forma lì Iiii ma che Ma che cazzo è una meme che non conosco? No non è una meme Non ho le braccia Che cos'è? Non ho le braccia Ma come si chiama sto Un indizio raga Eeeh E' un kaiju diciamo Cos'è un kaiju? E' un dinosauro però Ce l'ho fatto Ce l'ho fatta all'ultimo Oh Uh Questo è interessante questo eh Questo è interessante Boh io scrivo a caso Qualcosa meme Oddio mi sono No Sono tipo dieci Sono tipo dieci lettere Che Cos'è? Cos'è? Ok ho capito No Come non è quella? Ah non è quella? Che cazzo è allora? Britti? No Ma impossibile Savi cos'è? Daci un indizio Eh Non è più chiaro di così Ma è quella Scheda madre Poi perché è close? Eh ho capito che è un labirinto Ma una mappa No Billiardino È labirinto Ho capito cos'è Ma cosa cazzo Non lo so Va via Cazzo Non lo so Vabbè hai trovato il tesoro Il labirinto è vicino Ma come cazzo è scritto? Perché è scritto? Che cazzo è? Ma hai scritto mai? No No Cos'è? Lambiri Lambirinto Ma che cazzo è? Questa mi complico la vita Questa mi complico la vita Perché è scritto lambirinto? Lambirinto Raga potete parlare eh mentre disegnate Voglio dire Allora Cos'è sta roba? Tosta pane È nero Ah ok Che cos'è? Mi spiace dirlo No ok No dai Ma quel colore dell'armatura Ma che cos'è? Ma cos'è? No È un androide No che cazzo Come lo faccio a tornare indietro? Non lo so Nooo H H Se non è Doom che cazzo è? È uno vicino dai Verde Armatura verde Ma che cazzo ne so Xbox Xbox L'unico gioco Xbox Ah Ui Sì Ma non lo so io cos'è? Non ce l'ho la Xbox Ma è l'unico È famosissimo L'unico gioco decente su Xbox Da quando ho merito Xbox l'ho capito Ma non lo so ragazzi Ma non lo so ragazzi Io non sono così cultore di giochi Vediamo cos'è Halo Halo Ma chi cazzo Lo sapeva che Halo era per Xbox Ho paura Questa ragazzi vi complico la vita Ahia Allora E' perfetta Città 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 Non so scrivere Ma cosa Sto'è scritto pagina no? Sì Mamma 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 Manga forse Sì E' un altro nome Della pagina di un manga Ah e Ok Bravo No Il nome di un'altra pagina No cos'è Oddio E' un altro No è un'altra Cioè che poi Può anche riferirsi a tutti I fumetti Necessari Ho anche libri Io solamente No no solo fumetti Solo fumetti Mo Mi metto questi Che magari vi possono aiutare Il pavimento è al contrario Come se fosse la testa in giù Ah Minchia La tavola Ma che cosa Ma non è vero Ma vero Sì la tavola La tavola di un manga Cioè È chiaro cristallino Minchia Massimo C'è Verde Cos'è? Che cazzo è successo? No Sbagliato Ho scritto veramente cos'è Ma se non hai stelle Cos'è? Ho indovinato No Sì Ho indovinato Ma cos'è? No No a me Comunque sei vicino Chi? Io? Sì Eh Poche parole così Cioè poche lettere così Non lo so Cielo non è Ah Ok Ma non lo so cos'è raga Spazio Dovevi metterci più pianeti secondo me Sì Cioè dovevi fare prima i pianeti Non fare prima le stelle E vabbè Però Sembra un po' strano Inizio Chi è il coglione che riconduce le stelle ai pianeti? No Vabbè Le stelle si riconducono No No Più meno Pratico diventa così poi Com'è? Che cazzo Ma cos'è? Ma dai Ma no ma savi hai sbagliato tutto Non è così Ma cos'è un drago? Ma non è così E allora è forviante Vedi che hai forviato Cioè No allora Che cazzo Ma cos'è uno sperma Ma è felice È uno spermatoso felice Quello che avete visto prima Senza le bracciette verdi Vabbè poi dopo sei po' volvi Ma cos'è? Ok ma non diventa una lucerta La diventa una rana Ah Ah grazie mille No Grazie per gli indizi Non ce l'ho fatta Ma me l'ha messa in ritardo Vaffanculo Posso farla Black humor? Vai 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 Dio ma c'è Black humor Però comunque non ho riuscito a immaginarla Secondo me Ma si può Si può mettere il mi piace Vabbè hai già capito cosa succede Sono otto lette Non sapeva se non avete capito che Oh Ma cazzo è possibile? Ma che cazzo è minchia Se non è tentato che cos'è? Dovendo via Però quello che succede dopo è un È un Non è un impatto È un Ti Ma cos'è? Più o meno Ragazzi La strage cos'è? È un La strage è un Ho capito Forse Sì Che cazzo è? Ah Disassa Ah È un Disattro Dai che sono quasi vicino al simo Ma mi sta vincendo Minchia Io sono il più scarso Dai Chi ti fai adesso Questa raga è un problema Per voi veramente Cazzo Cos'è? Allora Questo qui è È il Terreno Così Fatto a caso Ricolorato Tranquillo Un po' Terreno Un po' Radiattivo Ok E qua invece ci sono Delle cose Questo non è vento È qualcos'altro Sì E queste onde Fanno qualcosa di particolare Che non è molto buono Per la nostra Ecco Ah cavolo Bob è ancora lì Che non ha capito Ok No Ma hai superato Cazzo Però guarda Savi dov'è C'è Impossibile Adesso Adesso Traiardo E vinco Perché mi sono Stufato Ah qua entra in gioco Vabbè non ve lo dico Le sparo a casa Cos'è? Pelle Pelle umana Un'ama poi Ma cos'è? Ah proprio Avevo scritto la stessa cosa Cos'è? Cos'è? Oddio Ma è un naso Non ho capito Ma non è un naso Cioè è molto fatto male Che se è un naso No cos'è? Ma cos'è? Bob Dacci un indizio Provo a farlo Provo a farlo un po' meglio Bob Sì Non dobbiamo anche io Dateci un indizio Raga È meglio questa parte Piede 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 Non si capiva Non si piede Ah ho capito Forse A parte il liefero del piede Il culo del piede Capito Citazione Il culo del piede Il famoso culo del piede Perché c'è questo? No Cos'è venuto? No Dai dai Che cazzo è? Cos'è? Dai scrivo a casa Finché non esce niente Chi scrive prima Chi è più veloce Cos'è? No dai Non vale L'avevo saputo cos'è? Stai scrivendo la parola Cercala magari Prima di scrivere Di disegnare Allora Orp Altre quattro lettere Ma cos'è? Lo so Perfetto Sì Cos'è? Dai Non so Non so Cos'è? Che cazzo è? Mi è venuta una disinenza a caso Ed era quella Lo sapevo Ma che è? Eh Ti dico I savici hanno mi aiuto molto Se lo devo dire Che cazzo è? I orlanda di natale Non so Non so Non so Che si chiamassi così Irlanda di natale Ma tu sei un dio Un ucce l'oro Ah di Irlanda di natale Orpello Ho dovuto cercare su gueca Ma che cazzo è? Ma che cazzo è questo Qualcosa di particolare È sempre questo Io non so perché Ancora? Beh beh Allora Allora Cos'è? È il colore giusto Com'è il colore giusto? È giusto il colore Cioè sono neri Ma cos'è? Oddio cos'è nero che c'è da nero? Vabbè cos'è nero che c'è da nero? Vabbè Normalmente non dovrebbe uscire così tanto Oh che è vero Che semmo Oh Oh Isco un Sabi che scrive la stessa cosa dopo quattro ore Faccio un po' bobo Per sui Sono quelli che adescono a Demi quando cominciano a diventare immortale Ma perché non vediamo che cos'è? Dottor Eggman Parca tua Eh chissà Peli del naso E cosa ho scritto io? Peli del naso Peli del naso Allora raga Vi complico la vita Chiasi e tu che disegni? No No Dio È già Fatto male Alan Orbe Mi è ancora rimasto traumatizzato da Daur Oh comunque siamo vicini a Saviard Ce la possiamo fare Cazzo No perché? Eh no Ah No è sono tre parole la vedete sopra minchia Dai così è facile Va 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 nell'orto Va 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 nell'orto Eh però Peperone Peperone Ma come è cacchio possibile che cita sta parola? Cioè L'ho scelta io Oddio Bravo Savi Bob è quello che di solito è più intelligente e non lo capisce Ma è un peperone Ma è un peperone Perfetto Che cazzo è? Un peperone Ha vinto Savi Ha vinto Savi E quindi ragazzi direi che questo era la fine del video Ci siamo divertiti abbastanza un casino Soprattutto per le parole strane che ci sono capitate Oh pego Si tipo E quindi ragazzi cosa dire Io ringrazio Savi the sun Prego Bob se non teca Prego E Giko Ciao E quindi ragazzi il prossimo video sarà una parte di Pokémon Praise the sun Perché penso vi mando io anche un pochino Anche se non è vero E quindi cosa dire ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Praise the sun Ciao